Ragazzi, ragazzi, ma secondo voi è normale vedere tutta questa roba in mezzo alla strada? No. Da dove viene tutta questa roba? A Giuliano. Ma chi è che la stai a? Chi la dovrebbe alzare? La camera munizia. E ci stanno le camera munizia? Ma secondo voi è giusto che mettono un inceneritore per mettere tutta questa roba qua? No, no. Grazie ragazzi. Ciao, ciao. Ma è normale che ci stanno tutti a munizia e candela. Grazie.